Naturalmente potrete trovare la mia intervista qui, fatta così E siccome sono ipocondriaca ho paura quando le persone mi parlano in maniera troppo vicina Ecco, ho paura di microbi, delle co, delle malattie Oddio ti ho baciata prima, allora non dovi Ovviamente da buona claustrofobica ho paura di restare chiusa in ascensore Tre cose che non sapete di Emma Allora, ho paura di restare in coda sotto i tunnel e in autostrada Però dai, tu presentati con me nel traduttore Ciao 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 Un gradito ritorno ad amici Emma Ciao 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 Perché mi stai calpendo? Doveva essere un massaggio! Non ti chiamerò mai più! Volevo dire a lei malpensanti, che comunque oggi ho stirato io. E siccome mi ha detto bene, mi tocca pure vicino. Malpensanti sempre! Uffi! No, vabbè, mi viene da piangere. No, no, no. Mi viene veramente da piangere. Dai, su! Niente, solo per dirvi che sono di nuovo in aeroporto. Cari amici di Instagram, purtroppo ogni volta nelle storie qua alla radio ci tocca avere ospiti che parlano solo in Salentino, vero? Purtroppo nel nostro lavoro dobbiamo affrontare anche dei momenti difficili e dobbiamo affrontare anche delle brutte persone. Eh, lo so, sono bruttissimi! Salutate Giovanni Vernia! Ciao, dalla persona brutta! Ciao! 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 Grazie.